Mangiare in modo consapevole, sprecare meno, insomma vivere ogni giorno con un minore impatto sull'ambiente è quello che si propone il movimento De Crescita Felice che oggi ha la sua prima festa nazionale. La seguita per noi, Elisa D'Alto. Io sono quello che mangio e io personalmente ho scelto di frequentare poco la farmacia e occuparmi del mio star bene. Mangiare consapevolmente, ridurre gli sprechi, imparare a produrre in casa il detersivo. Il movimento per la decrescita felice, nato dieci anni fa, ha organizzato a Roma la sua prima festa nazionale per mostrare come vivere responsabilmente faccia bene al pianeta e alla salute. A partire dalla spesa, prima regola, preferire frutta e verdura di stagione, ovvero alimenti con meno additivi chimici. Ci sono dei valori nutritivi molto più importanti e soprattutto con l'assenza di inquinanti che vanno a minare la nostra salute gravemente. Fondamentale poi saper leggere le etichette e sapere che produrre alternative in casa può essere facile ed economico. Un dato vegetale, ne abbiamo un acquistato in commercio con una percentuale a volte che non arriva all'1% di verdure. Abbiamo l'alternativa naturale che è fatta di verdure. Come si fa? Facilissimo, 400 grammi di sale, metodo degli antichi romani di conservazione. La restante parte è verdure di scarto, cipolle e verdure aromatiche. Non solo cibo, anche il sapone da bucato può essere autoprodotto usando olio d'oliva con soda caustica e acqua distillata. Non si tratta di solo risparmio, ma di uno stile di vita. Ci restituisce un potere anche di scegliere in prima persona e non essere passivi. Ci rende i cittadini più attivi. Ci rende i cittadini più attivi.